Sta per iniziare il nuovo corso accademico del Master Mai, Master sulla musica applicata all'immagine. I nostri punti di forza, collaborazioni con le più importanti scuole di cinema italiane, stage con aziende professionali dei settori di primo livello, un'etichetta discografica che pubblicherà i migliori brani del corso. Da quest'anno nuovi docenti Paolo Buonvino e Fabio Frizzi, due professionisti al top delle colonne sonore per il cinema e la televisione, e la collaborazione con il Roma Creative Contest, festival internazionale di cortometradi di prima grandezza. E poi il top, la possibilità di eseguire dal vivo la tua colonna sonora con la nostra orchestra. Lucca, una città bellissima e accogliente, artisticamente viva e pulsante. E allora iscriviti sul sito del Master Mai, ricordati, con Master Mai puoi.